Stanotte chi è arrivato, una ventina di ucraini che sono stati sistemati poi dalla rete di solidarietà, alcuni di loro proprio non avevano più nemmeno il portafoglio, quindi arrivano in condizioni assolutamente disumane. Non possono lasciare indifferenti le immagini e i volti dei profughi che arrivano in Toscana dopo essersi lasciati alle spalle l'inferno ucraino. Decine e decine di persone che devono rifarsi una nuova vita, in molti casi ripartendo da zero. Per questo il governatore rilancia anche l'appello per aderire alla raccolta fondi aperta dalla regione toscana. Abbiamo fatto con Liban l'attivazione della raccolta fondi perché ci veniva chiesta dai cittadini che volevano trasparenza e sicurezza nel momento in cui la generosità del popolo toscano si sta dimostrando sempre pronta a corrispondere soldi e conseguentemente aiuto al popolo ucraino. Devo dire che l'hanno fatto anche i comuni di Firenze e altri comuni, però noi metteremo subito a disposizione queste risorse. In campo anche le associazioni di volontariato con gli aiuti che partono ormai quotidianamente verso il paese dilaniato da una guerra sempre più atroce. Un'emergenza che si preannuncia non di breve durata. Per questo servirà il massimo impegno. A coordinare le operazioni sarà proprio il presidente Gianni nelle vesti di commissario di protezione civile. Grazie.